Prangenti, ti stai a divertire? Ok, vai andò, metti bene il corpo, guarda, girati e guarda il gioco, guarda il gioco. Dai, porta la patta, porta. Allora, guardate qua, guarda, fermi così. C'era il luogo da avversare, davanti. Non ci sta da avversare, no, non c'è. Guarda, guarda dove è stato. Allora io porto la patta, porto la patta. Matteo si attacca la porta e io si attacca la patta. Dammi la patta, capi tanto? Dai, vedi a posto. Prangenti, ti stai a divertire? Tappo. Quando non ti diverti più vieni, hai capito tanto? Che cos'è? Oh, bravo. Dai, Giulio, la posizione. Ci siamo, Matteo, la posizione. E trasmetti forse la patta. Ehi, a te. Ti voglio vedere fare il passaggio. Oh, andò, ci sei? Via. Raggiù. Dai, ancora. Sì, Giulio. Salta tu, non ti fa saltare, andò. Bravo. Così, oh. Così, bravo, lotta. Dammi la patta. Dammi la patta. Edoa, Edoa. Edoa, ti hai inciso, dai. Uno, due, tre le posizioni. Uno, due, tre. Cristian. Dai, giù. Edoa, sei vicino. Sei vicino. Edo, guarda. Guarda, guarda, occhio. Ehi, dove prendi la patta? Ehi, non c'era solo di guardare la patta. Ma a te. Ma a me che mi senti. Appena c'è la patta. Non ti devi nascondere. Ti fa vedere. Via. Ragiona. Sì. Ancora. Bravo. Ancora. Oh, ma importa. Dai, dai. Non devi avere fretta di calciare. Ma importa. Capito? Ancora raccoglio i vanno.